TecnoZoo. Voglio il meglio. In questa ottica, circa 15 anni fa, TecnoZoo ha intrapreso il suo percorso nella gestione sanitaria da prima degli allevamenti e poi dei laboratori di trasformazione dei prodotti derivanti. Tutto ciò formulando e producendo prodotti detergenti e sanitizzanti e appoggiandosi alla competenza di tecnici che quotidianamente affiancano i nostri clienti nella scelta e nell'applicazione dei migliori protocolli di pulizia e disinfezione. Circa 5 anni fa TecnoZoo ha iniziato la sua collaborazione con Ecosì, azienda italiana leader nella produzione di detergenti e disinfettanti per ambienti zootecnici e laboratori di trasformazione alimentare. Il fine ultimo di questa collaborazione è quella di ottimizzare i processi operativi e ridurre l'impatto ambientale. Con queste promesse è nato dunque un nuovo concetto di cleaning, la deter disinfezione, che inizialmente è stata proposta nell'industria alimentare e solo successivamente negli allevamenti, si articola nella miscelazione di due prodotti, un detergente schiumogeno e un disinfettante non schiumogeno, che nelle concentrazioni consigliate dai tecnici TecnoZoo genera una schiuma ancorata che ha azione sia sgrassante e pulente che disinfettante, che permette di raggruppare le operazioni cardine della pulizia in un unico passaggio, con un notevole risparmio di mano d'opera, prodotto utilizzato e acqua. Per quanto riguarda il prodotto detergente, si propone l'utilizzo di Taclin, un detergente a schiuma ancorata a media alcalinità per superfici piane, pareti e attrezzature in acciaio. Il prodotto, in azione coniugata con Oxigena, definisce un sistema completo per tutta l'industria alimentare e zootecnica. Oxigena è un disinfettante esente da schiuma a base di acido peracetico ed acqua ossigenata stabilizzati e attivano i confronti di batteri, funghi e virus anche a basse temperature. Oltre a questo innovativo processo di cleaning per l'industria alimentare e zootecnica, Tecnozoo propone tutta una serie di prodotti detergenti disinfettanti specificatamente formulati e registrati come PMC, che vengono proposti da procurati sovralluoghi nei vari siti produttivi. Prodotti per l'impianto di mungitura, pre-post-dipping formulati con le più innovative molecole presenti nel mercato, prodotti per il trattamento podale, in tutto per avere la migliore soluzione specifica per la vostra realtà produttiva. Passiamo un lavoro 60T Versi per il trattamento d'acido homesigmano tra potente Sistarten会lle Presto